Shalom a tutti, benvenuti, Daniela Mizan, Chag Sameach a tutti, Patrizia Miano, stasera parleremo ovviamente, parleremo di Pesach, della festa che avremo venerdì sera, abbiamo ancora un po' di persone che stanno ritardando a venire, noi comunque cominciamo adesso, chi arriva sarà più che benvenuto, ok, come abbiamo scritto nella lezione, stasera parleremo di Pesach e dedichiamo questa lezione a Daniela Berna, speriamo che questo Pesach possa portare veramente benessere a tutto il mondo intero, a tutti noi che ascoltiamo questa lezione, a tutti quelli che vogliono veramente uscire dalle proprie limitazioni, perché Pesach parla di uscire dalle proprie limitazioni e come si fa principalmente volendo uscire dalle limitazioni e dopodiché quando una persona vuole deve anche impegnarsi, deve seguire le varie direttive che i nostri maestri ci danno è proprio la serata del Seder con tutto il ceremoniale che noi facciamo scusate, il vino e le mazzotte e tutte le cose che studieremo stasera ci insegnano come veramente poter uscire con tutto noi stessi di andare fuori dalle nostre limitazioni, come ci scrive Alessandro Bianchi, volere è potere ed è vero, quando una persona vuole veramente da tutto, dal profondo di se stesso uscire dalle proprie limitazioni, vince, abbiamo preparato il video quello corto del settimanale che lo manderò domani per non accavallare troppe cose, guardate il video di domani, dura tre minuti ma sono tre minuti intensi che ci fanno capire cos'è la vera magia di questa grande festa di Pesach che non è soltanto il ricordo di un popolo che è uscito da schiavitù a libertà, ovviamente anche questo, ma ci fa vedere come oggi noi possiamo uscire dalle nostre schiavitù, dalle nostre limitazioni, dalle nostre angosce e da tutto quello che ci blocca dal migliorare e crescere come persone. Noi sappiamo che tutti gli otto giorni di Pesach è vietato mangiare qualsiasi cosa che sia farinacea, quello che si chiama hametz, hametz vuol dire qualcosa che è gonfio, qualcosa che è lievitato, tutto quello che è lievitato, infatti il pane noi non lo mangiamo, i creche non li mangiamo, la pasta non la mangiamo, la birra non la beviamo, il whisky che è tutto contenuto di grano noi non lo mangiamo, perciò tutto quello che è lievitato, tutto quello che è farinacea, tutto quello che è a base dei cereali e quant'altro noi a Pesach non lo mangiamo. La differenza che c'è tra il pane quotidiano di ogni giorno e le azime, la mazza, ricordiamoci la mazza vuol dire il pane azimo, dopo lo chiamerò mazza, cos'è la differenza tra la mazza e il pane che mangiamo ogni giorno che è hametz, gli ingredienti sono gli stessi, il pane è farina e acqua, l'unica differenza degli ingredienti è lievito, nel pane normale oltre alla farina e l'acqua c'è il lievito che gonfia il pane, invece nella mazza noi non mettiamo nessun agente lievitante, non soltanto che noi non mettiamo il lievito che fa gonfiare, tutto questo in ricordo, uno dei motivi è che quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, sono usciti di colpo, a un certo punto il faraone gli ha detto ok andatevene via e subito doveva, così come erano, dovevano uscire dall'Egitto senza preparare niente, non avevano ancora infornato il pane, perciò quello che l'impasto non era ancora ben lievitato, quello che c'era velocemente l'hanno infornato così com'era, essendo che non era ancora lievitato, allora era piatto. Uno dei motivi per il quale noi a Pesach mangiamo le azime è per ricordare che gli ebrei sono usciti di fretta dall'Egitto perché il faraone li ha mandati fuori, finalmente si è deciso a mandarle via e quando loro sono usciti non c'era il tempo per cucinare il pane normale, per lievitare e in ricordo di questo noi mangiamo la mazzà che è piatta, perciò la mazzà non soltanto che non contiene lievito, ma quando avete visto dei video, se no andate a vederlo su internet, fa vedere in modo fantastico quando vengono cucinate le mazzotte, come si fa? Non soltanto che non c'è lievito, ma tutta la lavorazione, dal momento che viene mischiata la farina con l'acqua fino a quando esce dal forno, passano dai 3 ai 3 minuti e mezzo, lavorano con tanta velocità, tutto questo perché affinché la mazzà non lieviti neanche per lievitazione naturale. Voi sapete che quando noi facciamo un impasto, anche se noi non mettiamo lievito, dopo 18 minuti c'è una lievitazione naturale, vuol dire dopo 18 minuti comincia a pian piano a gonfiarsi, a lievitare anche se noi non abbiamo messo nessuna gente lievitante, perciò quando noi facciamo una mazzà, visto che la mazzà deve essere piatta, non basta non mettere lievito, deve essere lavorato con tanta cura, con tanta velocità entro i 18 minuti, ovviamente 3 minuti contro 18 potete immaginare quanto in anticipo la mazzà esce, tutto questo per evitare appunto che la mazzà si gonfi e perché tutto il concetto è di mangiare un pane piatto. Perciò cos'è la differenza? Stasera vedremo tante cose tecniche e poi troveremo anche l'insegnamento morale e spirituale che si nasconde dietro a questo cerimoniale che noi facciamo. Perciò la mazzà abbiamo detto che non c'ha il lievito, la differenza tra lievito e non lievito che cosa? Che il lievito gonfia, perciò il gonfiore cos'è? La superbia, la superbia, quello che in ebraico si chiama gava. A Pesach c'è la mitzvah di mangiare la mazzà che è il simbolo della modestia. Noi non dobbiamo essere modesti soltanto a Pesach, ma tutto l'anno. E noi sappiamo che all'inizio, secondo un certo calcolo, l'anno ebraico comincia dal mese di Nisan, secondo quello che la Torah scrive. Pesach è il primo, è come se fosse la prima delle feste. Pesach racchiude in sé tanti messaggi che noi dobbiamo portarci dietro per l'anno intero. Il primo messaggio è di essere modesto. Il pane è vietato, otto giorni noi non possiamo mangiare pane, derivati e tutto quello che è lievitato. Da qua impariamo che il pane in questi otto giorni è bandito, è negativo. Non va bene il messaggio morale che si nasconde tra questo è che noi dobbiamo essere piatti, umili come la mazzà. Così come la mazzà se si gonfia non va bene, anche la persona se si gonfia di superbia, di credere troppo in sé stesso, che lui è superiore, che lui è un grande studioso, che lui è un grande manager, che lui è un grande scienziato, dottore, avvocato, qualsiasi cosa sia, tutti noi abbiamo di che vantarci. Però se ognuno di noi comincia a vantarsi di quello che lui è, non lo finiamo più, ci calpestiamo a vicenda, la Torah è uno dei principali insegnamenti che la Torah ci dà di essere piatto. Quante volte vi ricordate, abbiamo ricordato questo passo che Dio dice che lui non riesce a coesistere con quelle persone che sono ego, che sono troppo concentrate in sé stesse. Dio vuole persone che sono umili, infatti più una persona è umile, più una persona si sente piccola e più Dio riesce a appiccicarsi a lui. Molte persone pensano che io più sono grandioso e più Dio si attacca a me, più Dio mi guarda perché io faccio tante belle cose. Non è così. Nel mondo di Hashem, nella teoria, nel modo di comportamento di Hashem, è al contrario. Più una persona è piccola, più una persona è umile e più Hashem ama questa persona e riesce a collegarsi, a diventare compatibile con Dio. Però se una persona è una mitziut, lui crede in sé stesso troppo, diventano come una forma di antagonismo e Dio non vuole discutere con nessuno. Dio dice se c'è troppa persona io mi allontano, non riesco a coesistere con delle persone che tendono a gonfiarsi troppo di sé stessi. Perciò la mazza è il simbolo della modestia che ognuno di noi quando mangia la mazza in questi otto giorni deve inghiottire modestia, deve imparare il messaggio universale che la modestia è la cosa che a lungo andare paga sempre. La modestia è che ti allontana dal peccato. Se una persona è umile, ammette i suoi sbagli. Se invece una persona è piena di sé stessa, non riuscirà mai a ammettere gli sbagli che ha fatti. Sapete, molte volte noi la bugia sicuramente è vietato. E uno dice i comandamenti è di non dire bugie. E fin lì siamo tutti d'accordo. Però c'è anche dei gradi di bugie. Ci sono le bugie a qualcuno e ci sono le bugie che noi diciamo a noi stessi, le bugie che diciamo a Dio. Ognuno ha una forma di bugie. Ripeto, tutte le bugie sono vietate dalla Torah. Ma la bugia peggiore che una persona può dire è a sé stesso. Ingannare sé stesso di essere un qualcosa che non sia. Dire a noi stessi una bugia che noi poi crediamo in verità a lungo andare. sapete che quando noi diciamo le bugie e ci inganniamo da soli, a lungo andare noi crediamo veramente in questa bugia, in questa facciata che noi ci stiamo creando. Perciò se una persona non è abbastanza umile da ammettere i suoi sbagli, almeno tra sé e sé, non dico di andare in giro, a battere il cuore, a dire peccato ho fatto. Non vogliamo questo. Ma almeno tra sé e sé, nel mio intimo, quando mi guardo allo specchio, tra me e me, di capire dove io tengo, a che livello io sono arrivato. Allora lì è importante. Perciò se io sono pieno di me stesso, un pallone gonfiato e purtroppo al mondo c'è tanta gente che è così piena di sé stessa, che perde il barlume della verità e del bilancio della vita, allora tante volte la persona si dimentica in verità di essere non quella grande C, ma si dimentica di essere in peccato per tante cose verso Dio, verso l'umanità, verso il prossimo. Allora si dimentica di mettere a posto se stesso. L'umiltà sta, l'ammazzà ci insegna, sii umile, capisci che non sei perfetto per quanto tu possa essere bravo e contribuire nel mondo con buone cose, non sei perfetto. Cerca di guardare i lati negativi e cercare di metterli a posto e questo lo potrai fare soltanto tramite l'umiltà, perché se non sei umile non ammetterai mai, ma neanche a te stesso, degli sbagli che tu da umano puoi fare. Perciò questo è il messaggio principale che la festa di Pesach ci porta tramite il pane e l'ammazzà. Adesso, le due sere, attenzione, l'ammazzà non viene soltanto a sostituire il pane come ingrediente principale della nostra dieta. Non c'è pane, allora mangiamo l'ammazzà anche, ma l'ammazzà è anche una mitzvah. Abbiamo l'obbligo, una mitzvah vuol dire un precetto della Torah che le due sere del seder, le due sere di Pesach, le prime due sere, noi abbiamo l'obbligo di mangiare l'ammazzà, non soltanto come diversivo al pane. Le due sere quando noi ci sediamo tutti insieme e facciamo il seder, quello che si chiama il seder, la cerimoniale, la cena del Pesach dove mangiamo le azime, i quattro bicchieri di vino e tutte le cose che studieremo stasera, è d'obbligo di mangiare l'ammazzà. Perciò durante gli otto giorni se una persona non vuole mangiare l'ammazzà non ha l'obbligo, se non che al di fuori delle due prime sere dove è un precetto positivo della Torah dove dice di mangiare l'ammazzà noi mangiamo. La mazzà, la miglior mazzà per poter fare la mitzvah è la mazzà quella rotonda per intenderci quello che si chiama mazzà shmurah dove la farina è una farina speciale che è controllata già da quando viene tagliata fino a quando viene macinata è custodita in un posto che non è a contatto con acqua e neanche qualsiasi forma di liquido che possa essere laruggiata o a temperatura aperta viene proprio chiusa nelle camere essiccata e controllata in tutti i vari processi. Perciò questa mazzà shmurah, la mazzà rotonda è quella che noi dobbiamo mangiare appunto le prime due sere che ci dà il ricordo dell'uscita dell'Egitto, il ricordo del freedom, di essere liberi perché la mazzà appunto ci ricorda che essere umili è la vera libertà che noi dobbiamo auspicare. Perciò la Torah ci insegna le due sere quando noi mangiamo la mazzà, la mazzà hanno due scopi diversi, portano due ricchezze diverse. La prima sera si chiama il pane della fede, vuol dire la mazzà quando noi mangiamo la prima sera rafforza la nostra fede, invece la seconda sera quando mangiamo la mazzà è il pane, come lo Zohar, la Kabbalah dice il pane della guarigione. Praticamente la prima sera mangiamo la mazzà e in qualche modo la nostra fede si rafforza. Addirittura noi teniamo un pochettino la mazzà della prima sera per mangiare durante l'anno, per rafforzare la nostra fede. La seconda sera la mazzà ha la forza di guarire fisicamente, non spiritualmente, di guarire gli malanni ovviamente è un auspicio, non è una cosa meccanica, ma aiuta a guarire il corpo. Perciò se c'è qualcuno che sta male, ha un parente che non sta bene, datevi la seconda sera la mazzà e tenetela da parte, datele durante l'anno affinché questa grande mazzà che è benedetta possa portare guarigione a tutto il mondo intero. Abbiamo parlato di fede, poc'anzi, che la prima sera è il pane della fede, Mahal Ha Emunah. Vi racconto una storia che forse ho già raccontato una volta, ma la ripeto che è molto carina, un aneddoto. C'era una persona, anzi no, non è un aneddoto, l'aneddoto viene dopo. La storia vera è che c'è una persona che va dal rabbino e dice il rabbino io desidero che lei mi maledica una certa persona. Il rabbino fa cosa? Un rabbino da benedizioni, mica maledizioni, ma di cosa stai parlando? Sì, questa persona, dice l'ebreo, questa persona è venuto, aperto a pochi metri dal mio negozio, lo stesso negozio, con gli stessi articoli, da quando lui è aperto, i miei affari sono calati e io voglio che tu lo maledici affinché lui possa andare via, io posso tornare a essere come prima l'unico in questa strada che vende questo prodotto e bla bla bla. Il rabbino ha capito che aveva a che fare con una persona un po' particolare, come si può pensare di andare da un rabbino o anche non da un rabbino, di maledire un concorrente perché vende la stessa... una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allora il rabbino gli dice qui, e qui viene l'aneddoto, gli dice ti racconta una storia e dice così, c'era una volta un cavallo, questo cavallo era davanti a un fiume e lui andò a bere nel fiume. Il cavallo mette giù il muso per bere, a un certo punto si specchia, ma non capisce che è il suo riflesso e lui pensa che ci sia un altro cavallo. Allora cosa fa? Per gelosia, per rabbia che un altro cavallo sta bevendo nello stesso suo fiume, comincia a scalfitare, a dare calci, si agita e poi quando tramite il suo agitare i zoccoli nell'acqua, ha mosso un po' la sabbia, la sabbia è cominciata a girare, a salire, tutta l'acqua è diventata torbida e sporca, ovviamente il riflesso non era più lo stesso perché l'acqua non era più limpida, lui pensava di avere cacciato via l'altro cavallo e ha cominciato a bere tranquillo, però lui cosa ha bevuto? Ha bevuto acqua sporca, piena di sabbia, di terra che lui aveva portato a galla e dice il rabbino a questa persona che è venuto a lamentarsi, dimmi, come mi spieghi, come vedi questo cavallo? La persona dice il rabbino con tutto rispetto, questo qua non è un cavallo ma secondo me lui si è comportato come un asino. Dice, ah sì? Spiegami, come mai pensi che lui si comporti come un asino? Ha bevuto, hai un fiume intero, che ti importa se bevi da solo o altri cento cavalli? L'acqua è infinita, non finisce mai, l'acqua di un fiume non ha limiti, allora che ti importa se tu bevi da solo o con altre persone? Secondo, è stato stupido perché lui muovendo le acque alla fine non ha bevuto l'acqua pulita, ma ha bevuto l'acqua sporca di terra e allora lui era veramente un cavallo stupido. Il rabbino dice, ascolta quello che dici, non vedi che anche tu ti stai comportando proprio come questo cavallo che sembra un asino, anche tu il concetto è uguale, hai davanti a te un fiume, Dio è la forza nel mondo che ci manda il sostentamento, il guadagno ce lo manda Dio. Tu sei come quel cavallo che pensi che l'acqua finisca, ha forse Dio problemi di limiti? Può essere forse la benedizione che Dio dà alle persone limitata? Può finire la benedizione? Ovviamente no, allora perché tu devi preoccuparti di un'altra persona che ha aperto un negozio simile al tuo vicino a te perché tu pensi che Dio non possa dare benedizione a tutte e due le persone? Certo, non è bello aprirlo, non è etico magari a fare una concorrenza del genere, ma a prescindere da questo noi sappiamo che Dio non ha limiti, la benedizione di Dio è infinita, può esserci una catena di negozi tutti uguali, una accanto all'altra e tutti possono guadagnare e possono vivere, dipende da come noi agiamo, da come noi pensiamo, da come noi intraprendiamo il lavoro. Se noi pensiamo che il lavoro in sé, che il negozio è in sé, che la merce è in sé, che i clienti sono loro che ci danno da mangiare, sono loro che ci fanno guadagnare, abbiamo sbagliato, conviene già chiudere il negozio in partenza, ma se una persona dice il mio lavoro è soltanto un tramite, tramite il quale Dio può mandare le sue benedizioni, allora questo è il modo di come intraprendere una vita, di capire che tutto viene da Dio, perciò questa persona ha capito il messaggio che non dobbiamo mai limitare, mai avere paura, perché Hashem non ha nessun tipo di limite. Andiamo avanti, abbiamo parlato del divieto di mangiare pane e adesso noi sappiamo che domani sera, motivo per il quale noi abbiamo anticipato la lezione a stasera, perché domani sera che è la vigilia del Pesach, la regola è che noi dobbiamo andare in giro per la casa a cercare il chamez, vuol dire tutto quello che è lievitato, perciò nell'ultimo mese, settimana, quello che sia, dipende dalla casa, ogni casa le donne erano attente a pulire, a mettere da parte tutte le cose che sono appunto lievitate pian piano, arriviamo adesso pochi giorni, poche ore prima di Pesach, praticamente tutte le case sono pulite, non c'è niente di lievitato. Domani sera noi andiamo in giro con una candela a cercare anche negli angoli, negli armadi, nelle tasche delle giacche, in qualsiasi posto, specialmente in una casa dove ci sono bambini piccoli, sappiamo che i bambini piccoli, per quanto la mamma possa essere attenta alla pulizia della casa, ma i bambini portano briciole dappertutto nei loro giocattoli, nelle loro scatole, nel loro letto, dappertutto possiamo trovare, quando sono bambini piccoli, briciole. Perciò la regola è la sera prima di Pesach, cioè domani sera, quest'anno, si va in giro con una candela a cercare proprio tutti gli angoli della casa, tutti i bordi per vedere che non ci sia rimasto nessuna forma di hametz e se lo troviamo dobbiamo eliminarlo, infatti l'indomani mattina noi eliminiamo il hametz, lo bruciamo, perciò domani sera lo cerchiamo e l'indomani noi lo bruciamo. Tutto questo in spirituale, come noi lo traduciamo, dobbiamo andare a cercare non soltanto il hametz che si trova nelle case sotto forma di briciole o di pane, ma noi dobbiamo anche cercare il hametz che si trova dentro di noi, il fattore lievitante vuol dire la superbia, l'angoscia, la paura, l'insicurezza, il parlare male, la cattivere che certe volte abbiamo nel nostro cuore, tutto quello che abbiamo di negativo in noi, dobbiamo prima di tutto con una candela, metaforicamente parlando andare a cercare all'interno di noi stessi, del nostro cuore, di andare a cercare ogni forma di negatività e quando l'abbiamo cercato sicuramente troveremo, perché in una casa sempre si trova qualcosa o perlomeno dentro di noi troviamo sempre qualcosa e se non lo troviamo non inganniamoci di essere perfetti, vuol dire che non abbiamo guardato bene, bene, siamo sinceri con noi stessi, andiamo a cercare dentro di noi e vedrete che troveremo tante cose negative, tanto hametz che dobbiamo cercarlo, trovarlo e poi prima di Pesach bruciarlo, bruciarlo vuol dire eliminare tutto quello che abbiamo trovato di negativo che c'è in noi, non dire io sono fatto così, molte volte noi cosa facciamo? Troviamo dentro di noi dei fattori negativi e poi facciamo un sospiro per dire ebbè d'altronde cosa vuoi? Dio mi ha creato così, vuol dire che io sono così e rimarrò così, non è questo quello che Dio vuole, Dio è vero, ha creato le persone ognuno con le sue limitazioni, ognuno di noi è tendente a avere delle mancanze, tendente a avere qualcosa di peccaminoso, siamo umani, ma da lì a sospirare e dire io sono così, non posso cambiarmi? No! Pesach ci insegna di andare a cercare, di trovare in fondo, dentro di noi, negli angoli nascosti, trovare negatività e fare di tutto per eliminarlo, non per finta, ma eliminare, sradicare da dentro di noi qualsiasi cosa di negatività che c'è all'interno di ognuno di noi. E questo è un obbligo, così come a Pesach non si può mangiare hametz, non si può avere agente lievitante in casa, bisogna bruciarlo, così a Pesach dentro di noi non ci può essere niente di negativo, dobbiamo bruciare tutto il negativo che si trova all'indentro di noi, non dobbiamo focalizzare nel male degli altri, noi siamo tutti campioni mondiali di trovare il hametz negli altri, trovare i negativi negli altri, i difetti negli altri e volere bruciare i suoi difetti, questo è uno degli hobby più belli di noi umani. Molto facile, cercando l'altro, brucia l'altro, lo offendo, lo vergogno, è molto facile. Invece vai a cercare dentro di te, brucia il tuo hametz e vedrai che sarai tu una persona molto più limpida, più limpida e una persona molto più squisita con cui poter condividere la vita. Adesso, il limite venerdì che comincia a Pesach, Pesach comincia venerdì sera, come ogni festività comincia la sera, ma il divieto di mangiare la mazzà non comincia venerdì sera, comincia venerdì mattina. Per l'esattezza, a Roma, voi romani potrete mangiare, quando sarete a Roma, il hametz soltanto fino alle 10.40 della mattina di venerdì. Invece a Milano, un po' più di minuti, possiamo mangiare il hametz venerdì mattina fino alle 10.51. Dei 10.51 dobbiamo già avere eventualmente finito di mangiare l'ultimo pezzetto di hametz e già avere sciacquato la bocca per togliere il hametz dalla nostra bocca. Dopodiché, fino alla settimana dopo, è vietato a otto giorni mangiare qualsiasi forma di hametz. C'è una domanda che i nostri saggi hanno chiesto, che è la seguente. Togliere il male da dentro di noi è solo dopo che noi facciamo il bene, oppure dobbiamo cominciare a fare il bene affinché possiamo togliere il male. Vuol dire, c'è chi dice, io ho del male dentro di me, ma non posso cominciare a fare la Torah e le mitzvot finché ho del male. Allora cosa devo fare? Tolgo. Perciò togliere il male che c'è in me e poi intraprendere le mitzvot, oppure l'inverso, no? Io comincio a intraprendere le mitzvot con la speranza che le mitzvot mi aiutino a mettermi a posto anche all'interno di me stesso. La risposta giusta la troviamo, mi dicono che qualcuno ha problemi di connessione, vabbè, noi andiamo avanti. La risposta giusta la cominciamo nel Seder. Domani, la sera di venerdì, noi facciamo il cerimoniale, no? Con tutto il Seder, Kadesh, Urkaz, Karpaz, tutte quelle cose che si mangiano, che ci ricordano le varie cose. La prima cosa che noi facciamo nell'ordine è il Kiddush. Beviamo il vino. E dopodiché laviamo le mani. Kadesh Urkaz, detto in gergo. Kadesh vuol dire santificare, Urkaz vuol dire lavare. La risposta al nostro quesito la troviamo nella prima tappa del nostro Seder. La prima tappa, che cos'è? Santificare tramite il Kiddush, che beviamo il vino, e poi ci laviamo le mani, ok? Come d'altronde facciamo ogni venerdì sera. Qua il significato è Kadesh, vuol dire santifica te stesso. Ricordiamoci, tutto quello che stiamo studiando è per noi, è rilevante alla nostra vita, di come migliorare la nostra esistenza. Kadesh vuol dire santifica te stesso, avvicinati a Dio, e poi vedrai che automaticamente, Urkaz, ti laverai, automaticamente diventerai pulito dentro. Non dire, prima devo pulire me stesso dalle mie negatività, per poi intraprendere la Torah. Non potrà mai essere così, perché la Torah in verità ci aiuta a cacciare via le cose negative che noi abbiamo in noi. Perciò prima di tutto Kadesh, santificati, comincia a fare le mitzvot, attaccati a Dio, connettiti all'Eterno. E tramite questo riuscirai a espellere tutta la negatività che c'è dentro di te, e non viceversa. Ok. La seconda fase è il Karpas. Noi cosa facciamo? Il Karpas è, prendiamo dell'erba, c'è chi usa a mangiare del sedano, c'è chi usa a prendere un pezzo di cipolla, un pezzo di patata, una verdura, qualsiasi sia. Noi mangiamo un pezzettino, non in abbondanza. La Lachat dice di mangiare meno di 28 grammi un piccolo pezzo di una di queste verdure. Karpas viene insieme a Yachatz quando noi spezziamo la Mazzà. Ok? Cosa ci insegna questa seconda tappa? Karpas ci insegna l'amore per il prossimo. Forse voi non capirete tutte le parole in ebraico che sto cercando di spiegare, ma almeno il concetto sarà molto chiaro. Karpas vuol dire appunto l'erba, la verdura che noi mangiamo. Qua ci insegna l'amore per il prossimo che noi dobbiamo avere. Sapere dividere con il prossimo anche quel poco che noi abbiamo. E dove lo vediamo questo? Karpas è la verdura, Yachatz vuol dire dividere. Vuol dire quando hai anche poco, dividilo. sii capace di dare a qualcun altro un po' di cibo, anche se tu ne hai poco, dalla a qualcun altro, perché è bello condividere quello che si ha con gli altri, che sia cibo, che sia soldi, che sia allegria, gioia, qualsiasi cosa che noi abbiamo che qualcun altro, quanto a noi, non ce l'ha. anche se ne abbiamo poco, la Gadda ci insegna di dividere, condividere quello che noi abbiamo con il prossimo. Vi racconto una storia bellissima, una storia vera. C'era all'epoca delle guerre, quando c'era povertà e non c'era modo, come oggi, di avere le mazzò, di avere carne, c'era tutta povertà e le mazzò non c'erano per tutte. Allora il rabbino della città doveva preoccuparsi di organizzare che ogni famiglia abbia della mazzà da mangiare almeno per le due sere di Pesach del Seder. Allora, un anno che era veramente difficile poter procurare la mazzà, il rabbino della comunità era riuscito a organizzare poche fette di mazzà e ha detto ogni famiglia potrà ricevere soltanto una mazzà. Potete immaginarvi che povertà. Noi mangiamo chili e chili di mazzà durante Pesach, dipende poi da quanti siamo in famiglia. E qui invece quell'anno c'era soltanto una fetta, una mazzà rotonda fatta a mano per ogni famiglia. Ok, arriva una famiglia e il rabbino le dà una mazzà, perciò tutte le persone arrivavano e ricevevano quella mazzà e non di più. Un giorno quando il rabbino appunto divideva le mazzot con le persone della comunità, arriva una persona e dice rabbino io desidero avere due mazzot. Quando il rabbino aveva già detto esplicitamente che c'era soltanto una mazzà a testa. Il rabbino senza battere ciglio, senza arricciare il naso, gli ha dato due mazzotti, una persona chiede come faccio a dire di no. Tutti i figli e gli altri seguaci del rabbino erano un po' scioccati come mai, però il rabbino ha detto, ha fatto, e lui sa benissimo come si fa. Va bene, arriva la vigilia poche ore prima che comincia Pesach e bussano alla porta del rabbino. Chi è? È il figlio di quella persona che aveva chiesto due mazzot. Il figlio è, bussa, entra e il rabbino fa dimmi cosa posso fare per te e lui risponde mi manda il mio papà. Cosa? papà chiede se il rabbino ha mazzà per stasera e il rabbino fa no, 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 non ha la mazzà. Ma come non ha la mazzà? Stasera è obbligatorio mangiare la mazzà? E il rabbino risponde come posso io tenere la mazzà per me stesso quando in città c'è una famiglia che ha bisogno di mangiare la mazzà? Io ho dato la mia mazzà a qualcun altro. Allora il figlio tira fuori un sacchetto con dentro la mazzà dice ecco mio papà quando qualche giorno fa ti aveva chiesto due mazzot non era per se stesso conoscendoti conoscendo la tua bontà sapeva che tu avresti dato fino all'ultima mazzà a qualcun altro e tu sareste rimasto senza perciò mio papà ha voluto tenere una mazzà per te eccotela questa è la tua mazzà. qua vediamo un insegnamento meraviglioso qua vediamo che prima di tutto dobbiamo pensare al prossimo a tal punto di dare il nostro a qualcun altro ma qua vediamo anche che quando la persona si preoccupa a questo livello esagerato di dare tutto al prossimo alla fine ritorna indietro Dio non rimane mai debitore ogni mitzvah che noi facciamo ogni cosa buona che noi facciamo nel mondo di Dio Dio non rimane debitore Dio ci paga indietro di quello che noi facciamo può pagare in un modo in un altro modo ma Dio il Talmud dice non rimane mai debitore per una bontà che noi facciamo o nei suoi riguardi o nei riguardi di noi umani con umani ok andiamo avanti bellissima questa storia vi ricordate potete raccontarla alle altre persone la prossima tappa è Magid Rochza leggiamo la Haggadah tutto il il cerimoniale dove si legge le storie della riuscita dell'Egitto eccetera e poi ci si lava le mani per mangiare la mazzà cosa impariamo cos'è il messaggio che si nasconde qua c'è scritto che quando dopo 120 anni o comunque Dio chiederà ad ognuno di noi cosa hai fatto per me per la mia gloria Dio chiederà ad ognuno di noi e tutti cominceremo a dire eh io per te ho studiato tanta Torah io per te ho fatto tante mitzvot io per te ho fatto ognuno comincia a elencare qualcosa di spirituale che ha fatto e Dio dirà no tu hai studiato tanta Torah perché volevi avere tanto onore tu hai fatto tante mitzvot perché volevi che si dica che tu aiuti tu invece ad ognuno che viene dice io ho fatto qualcosa per Dio Dio troverà un qualcosa che noi in verità l'abbiamo fatto per il nostro ego per la nostra superbia c'è una cosa che Dio più di tutto vuole più delle preghiere dello studio che sono importantissime e mi raccomando ma c'è una cosa che Dio chiede è hai avvicinato mio figlio alla Torah Dio vuole che tutti i suoi figli siano i suoi seguaci che tutti i suoi figli lo conoscano e lo amano quando tu eri impegnato su te stesso a studiare a farmi so per te stesso ti sei dimenticato che c'è un tuo fratello che non ha la tua fortuna di studiare di fare le mitzvot ti sei mai preoccupato di contattarlo e invitarlo a fare con te Pesach invitarlo a fare con te un Shabbat Arosh Hashanah le festività ti sei impegnato a cercare di riconnettere di ricreare questo questo contatto tra padre e figlio tra Dio con i suoi figli no perché perché è di troppo preso in te stesso perciò qua quando noi diciamo Magid Rochza vuol dire ricordati Magid vuol dire dire Rochza vuol dire lavare vai parla con i tuoi fratelli e digli raccontali spiegali come lavarsi interiormente come essere puliti come ritornare ad appacificarsi a Dio sapete la Torah la Hagadah parla la storia di Pesach parla dei quattro famosi figli che già abbiamo parlato c'è quello il figlio intelligente il figlio cattivo ribelle finché arriviamo a tutti i tipi di figli ma c'è un quinto figlio abbiamo già parlato ma lo ripetiamo c'è un quinto figlio che non viene menzionato nella Torah nella Hagadah ma che il Rebbe ci ricorda che è quel figlio che non viene neanche a tavola durante il sedere abbiamo quattro figli in quattro figli ognuno con il suo modo di essere ma c'è un quinto figlio che non viene neanche a sedersi a tavola con suo padre non viene neanche a sedersi a tavola con la famiglia perché non interessa niente di Pesach perché non conosce perché non sa perché non vuole allora Dio dice ma quel figlio lì qualcuno si è preoccupato noi arriviamo alla sera del sedere e diciamo una famosa frase che dice chi ha fame venga e mangi chi ha bisogno venga e faccia festa con noi ma noi siamo già al quinto piano con la serratura girata con la porta blindata chiusa diciamo queste parole tante volte al vento noi dobbiamo in queste ultime ore prima di Pesach andare a cercare ospiti a cercare quel quinto figlio che lui poverino non sa non conosce Dio non è stato educato Baruch Hashem quest'anno Chabad in Italia abbiamo organizzato diversi seder in tutta Italia in Milano diversi posti dove facciamo i seder più dico più di duemila persone parteciperanno soltanto ai seder che il movimento Chabad ha organizzato in Italia per non dire delle altre sinagoge centrali che hanno anche loro fatto ogni tempio una cena perciò soltanto noi più di duemila persone verranno in queste due sere a fare il seder insieme a noi tanti di questi sono il quinto figlio che nessuno conosce che loro non hanno mai fatto il seder vita loro ed è questo il punto dobbiamo quando Dio ci chiederà cosa hai fatto per me oltre alla lunga lista di mitzvot dobbiamo dire io ho contattato questa persona ho avvicinato quest'altra persona ho insegnato quest'altra persona dobbiamo riconnettere Dio con i suoi figli ok la prossima tappa è mozimatzah quando noi finalmente dopo le varie cerimonie mangiamo la mazah e facciamo la mitzvah della giornata mozimatzah vuol dire togliere mazah oltre alla mazah vuol dire anche discussione litigio la Torah qua ci dice che noi quando arriva a Pesach dobbiamo mozim togliere il litigio una delle cose che a Pesach ci insegna sapete che molte volte all'interno di comunità all'interno di famiglie all'interno quando c'è un po' di gente spesso facilmente si può litigare bisticciare mancarsi di rispetto e così via dice qua una delle tappe di Pesach mozì togli la mazah togli il litigio togli l'astio fare in modo di appacificare le persone sapete Aaron il fratello di Mosè cosa faceva era riconosciuto per che cosa per portare pace all'interno del 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 popolo ebraico a costo di dire mezze verità per non dire bugie la bugia è vietata ma molte volte mezze verità si possono e si devono dire uno dei casi è proprio questo per far fare pace a due persone andava da una persona che aveva litigato con quest'altra persona e diceva sai quell'altro è molto triste si sente male che avete litigato vorrebbe tanto fare la pace con te andava dall'altro diceva la stessa bugia finché i due si incontravano si abbracciavano e facevano pace questa è una bugia a fin di bene e questo è quello che la Gadda ci insegna basta togli tutto il litigio la prossima è molto bella mi piace tantissimo la prossima spiegazione è il maror maror cos'è l'erba amara maror corech vanno insieme maror che cos'è amaro chiedi vedi una persona beh come va la vita ma guarda lasciami stare non ti dico problemi qua ogni volta ognuno di noi quando ci si chiede come stiamo molte volte noi diciamo rispondiamo con amarezza con pesantezza che abbiamo problemi questo e quest'altro dice la Gadda maror però corech la frase dopo è corech cos'è il corech che si prendeva l'erba amara e si mischiava e si avvolgeva con altre cose e si mangiava con la mazzà per esempio allora qua dice quando una persona ha maror ha difficoltà nella vita ha la vita amara e così via non deve per forza sempre guardare e concentrarsi sul male che lui ha corech corech vuol dire avvolgere guarda anche che nella vita si ci sono alti ci sono bassi ma di non guardare sempre soltanto le cose negative corech vuol dire avvolgilo mischialo con altre cose nella vita sicuramente hai avuto anche momenti buoni no? sicuramente hai avuto delle gioie allora non focalizzare soltanto sull'amarezza di alti e bassi perciò sii capace di mischiare i momenti amari della vita con altre cose di felicità per dimenticare che c'è amarezza è molto facile piangere su se stessi la Torah non gli piace le persone che piangono su se stessi la Torah piace le persone che prendono in mano la loro vita e vogliono cambiare migliorare la loro vita senza stare lì a buttarsi giù a piangere e così via ok la prossima parola che cos'è la prossima stadio è Shulchan Oreh quando noi cominciamo a mangiare la cena dopo tutte le preghiere finalmente si mangia cosa vale questa sera quando tutti noi siamo a tavola parenti che magari vengono da lontano per Pesach per stare tutti insieme cosa vale questa cena se uno dei figli come prima dicevamo della persona non è vicino a lui ma non perché non è potuto venire perché abita lontano ma perché è lontano dal papà è lontano dall'ideologia di sedersi a tavola con la famiglia allora la Torah insegna Shulchan Oreh per far sì che quando c'è festa i tuoi figli vengono a tavola con te tu devi lavorare l'anno intero non un giorno prima chiamare eh domani è Pesach vieni a cena con noi no devi essere padre devi essere madre un anno intero una vita intera vuol dire devi dare ispirazione ai tuoi figli devi dare educazione ai tuoi figli devi dare buone esempi ai tuoi figli devi dare buone parole incoraggiamento ai tuoi figli affinché loro ti seguano non soltanto una volta all'anno affinché loro siano compatti con te tutta la vita ma c'è una persona che si siede alla sera del seder e i suoi figli non sono accanto a lui per motivi non di spazio e di geografico ma per motivi che c'è un distacco tra padre e figlio perché il figlio non ha avuto questa educazione questo amore allora è la sofferenza del papà la Torah ci insegna per far sì che i tuoi figli siano vicini a te dagli educazione ferrea ebraica ma farlo con amore e non con durezza e questo è quello che la Torah ci insegna di non portare parole difficili ai figli che non vogliono seguire la nostra strada bensì scaldare il loro cuore con parole dolci con parole di amore con tanta e tanta calma e tranquillità e pazienza la prossima tappa è safun vuol dire nascosto praticamente noi prendiamo quel pezzo di mazzà che abbiamo nascosto lafico man e lo mangiamo ok nascosto e poi facciamo la bricata mason la venizione di dopo il pasto cos'è l'insegnamento safun quando una cosa è nascosta che non è chiara perciò anche nel male berach sii capace di benedire Dio tante volte abbiamo parlato che è facile amare Dio e benedire Dio quando tutto va bene ma è più glorioso ci rende gloria a noi umani quando noi anche se non capiamo un qualcosa anche se vediamo una ingiustizia apparente noi siamo capaci di amare Dio e di ringraziare e di lodarlo come c'è scritto nella halakha così come noi benediciamo Dio per una cosa buona che ci succede nella vita così sia mai bisogna anche essere capaci di benedire Dio quando succede qualcosa di male quando una persona perde un genitore sia mai fa una benedizione Baruchata Hashem Dayane benedetto tu Hashem re del mondo che sei il Dayane il giudice della verità vuol dire che se tu hai preso questa persona dal mondo tu sai che è giusto è arrivato questo momento sono cose che noi non possiamo sapere perciò benediciamo per il bene ma anche per quando muore quando passa via la miglior vita un parente sia mai prima dei 120 anni perciò anche nel nascosto sii capace di benedire anche quando non capisci ringrazia Dio e se fai questo se sei capace di benedire Dio anche davanti a qualcosa di veramente negativo di amaro la parola prossima è All'El Nirza All'El Nirza sono le lodi che noi leggiamo alla fine della Gadà vuol dire che Dio ti loda quando vede che tu sei capace di lodare Dio nei momenti di difficoltà Dio dice lui gli ho mandato una difficoltà come ha reagito ha reagito con lode ha reagito con positività allora io lodo lui lo ripago adesso di tutta la sofferenza perché perché io vedo che lui è capace di accettare ogni cosa che io faccio in un modo gioioso perciò questo è tutto il sede tutto il scenario le varie tappe che noi facciamo e l'insegnamento che ci deve portare i quattro figli che abbiamo detto prima sono anche le quattro generazioni noi abbiamo quattro figli è uno che è il 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 poi dopo di lui viene il rasha poi dopo di lui viene il figlio che è un sempliciotto e poi vede il peggio quello che proprio non sa neanche chiedere non capisce niente non sa niente non chiede neanche domande cioè abbiamo dall'alto verso il basso quattro tipi di figli diversi ma queste sono anche quattro generazioni diverse vale a dire molte volte noi sentiamo dire molte volte io conosco delle nuove persone che non conoscevo prima e mi dice, ah sai, mio nonno, mio padre era un rabbino, era un sciocchette, era un qualcosa, e tu? Eh, però poi il suo figlio ha lasciato un pochettino, perciò molte volte il nonno era una persona perfetta, poi il figlio ha deviato, ma i figli dei figli cosa succede? Che peggiorano sempre di più, perché quando il papà deve dalla strada del nonno, allora il figlio è scombusolato, non sa dove girarsi, e i figli dei figli è ancora peggio, perciò qua avviene che si taglia, le generazioni si tagliano, c'è un taglio netto tra figli, nipoti e nonno, perché? Perché il nonno era, una volta quando ero nei paesi, dovunque ero, eravamo tutti bravi i nostri nonni, poi pian piano, arrivando in Europa, con la libertà e tante cose, le persone pian piano si sono allontanate, perché la libertà molte volte anche allontana, anziché avvicinare, e chi ne soffre poi sono i figli, dobbiamo riconnettere, ritornare alle usanze dei nostri avi e non dire mio nonno era, sì mio nonno era e io continuerò a essere quello che lui era, perciò vediamo che la libertà, che abbiamo detto prima, tutto il seder che noi facciamo, tutto questo cerimoniale, gira intorno alla libertà, beviamo adagiati sulla sinistra, ci vestiamo in un modo particolare, facciamo tante cose per far vedere che noi questa sera è una sera speciale e siamo persone libere, ok? Noi la libertà che dobbiamo auspicare è la libertà da noi stessi, perché molte volte non c'è nessuno che ci vuole bloccare, molte volte la nostra insicurezza, la nostra angoscia, la nostra poca fiducia in noi stessi che ci blocca nella nostra vita, molte volte la libertà è niente meno che da noi stessi, dobbiamo cercare di liberarci dai falsi miti, dai film che ci creiamo nella nostra mente per poter veramente crescere e andare sempre più in alto. Noi beviamo, arriviamo, farò veloce perché siamo un po' in ritardo, beviamo i quattro bicchieri, no? Quattro bicchieri di vino, vi siete mai chiesti perché beviamo quattro bicchieri? Ebbene, una delle risposte è, noi durante l'arco della serata beviamo i quattro bicchieri che sono obbligatori a bere e bisogna berli anche adagiati sulla sinistra per ricordare i quattro linguaggi tramite il quale Dio nella Torah ha detto a Mosè, i quattro linguaggi della redenzione praticamente, praticamente Mosè ha sentito da Dio, Dio ha detto quattro, ovviamente nei quattro momenti diversi della Torah, c'è scritto vi farò uscire dall'Egitto, vi salverò, vi redimerò e poi c'è scritto e vi prenderò ad essere il mio popolo. Questi quattro linguaggi sono quattro linguaggi di salvezza, lo ripeto, vi farò uscire, vi salverò, vi redimerò e vi farò diventare il mio popolo, vi prenderò come mio popolo. Questi sono i quattro linguaggi tramite il quale nella Torah c'è scritto che Dio verrà a salvare il popolo ebraico dalla schiavitù egiziana tramite questi quattro verbi. Perciò in ricordo di questi quattro verbi scritti nella Torah, noi beviamo quattro bicchieri di vino. Adesso la domanda è capiamo i quattro, con i quattro ci sta, ma perché quattro bicchieri di vino e non quattro qualcos'altro? Perché il vino cos'è? Sentitemi bene, questa è una cosa della Kabbalah bellissima, che dice così, che il vino rappresenta la potenzialità nascosta dell'uva. In un modo superficiale, l'uva cos'è? È un semplice frutto come tanti altri, però quando noi prendiamo l'uva, lo spremiamo, lo schiacciamo, chi ha visto come si fa il vino può capire in profondità quello che sta raccontando, prendiamo, lo spremiamo e facciamo tutti i vari processi di dividere la parte buona. Praticamente tutto il processo del vino non è una cosa facile. Io una volta ho lavorato in fabbrica del vino per fare il cashier e ho visto quanto veramente è preciso, è difficile, è meticoloso tutto il lavoro di separare la buccia una volta schiacciata, la parte buona, la parte non buona e così via. Perciò tutto il processo di fare il vino non è semplice. Eppure prendiamo un semplice frutto, un'uva, lo prendiamo e lo trasformiamo in che cosa? In vino. Cos'è il vino? È la bevanda più pregiata e speciale che esiste da che mondo è mondo. Perciò qua vediamo che prima era dell'uva, semplice uva, ma poi quando abbiamo preso l'uva l'abbiamo schiacciata, l'abbiamo trasformato in vino che è una bevanda più pregiata che esiste al mondo. Perciò qua vediamo la potenzialità che si nasconde dietro un chicco di uva. Prima era un semplice frutto uva che poi è diventato vino che può costare anche tanti tanti soldi. Più il vino è lavorato, è pregiato, è stagionato come si deve, invecchiato come si deve, e più questo vino acquisisce valore e più costa. Qua vediamo perché noi facciamo. Apriamo la sera del seder proprio con il vino. E diciamo che tutti i quattro bicchieri di vino sono per... e tutti i quattro linguaggi della Torah di salvezza lo rappresentiamo con il vino. Perché? Perché il vino rappresenta che cosa? La potenzialità. Perciò noi cominciamo il seder con il vino per capire che ce la possiamo fare. Non guardare l'uva, guarda il vino. Questo vino pregiato che tu stai bevendo, da dove arriva? Da quel chicco di uva semplice. Perciò di non vedere le cose così come sono a occhio nudo. Guardiamo il potenziale, guardiamo dove possiamo veramente arrivare. Perciò quando noi cominciamo la sera del seder, dove noi auspichiamo alla libertà, a un cambiamento in noi stessi, con che cosa lo cominciamo? Con il vino per dire guarda, così come il vino prima era soltanto un semplice frutto. e noi lavorandoci sopra l'abbiamo reso un vino prelibato, una bevanda prelibata. Così anche noi possiamo fare, ce la possiamo fare. Tutti noi abbiamo l'uva dentro di noi stessi, abbiamo le potenzialità nascoste, cerchiamo queste potenzialità, capiamo di quanta ricchezza noi abbiamo e poi possiamo diventare anche noi del vino pregiato. Basta crederci. Se ci credi e lo vuoi fare, lo puoi fare. E' addirittura l'usanza che cos'è? Che non soltanto che noi riempiamo il bicchiere di vino, ma lo riempiamo così tanto, secondo certe usanze, che addirittura straborda un pochettino, esce un po' di vino e si rovesce nel piattino che c'è sotto. Ci sono tanti simbolismi, uno di questi simbolismi è l'abbondanza, la bendizione, ma uno dei simbolismi che noi stiamo adesso studiando è di andare al di là. Vuol dire riempere il bicchiere a tal punto che si rovescia fuori. Ognuno di noi ha un bicchiere, è un bicchiere, ognuno di noi ha il bicchiere di una certa misura, c'è chi ce l'ha ampio che puoi riempire di vino e così via, c'è chi è più piccolo. Non fa differenza qual è la misura del tuo bicchiere, che misura tu hai, quanto puoi contenere in poche parole, ma l'importante è qua che quando tu riempi il bicchiere strabordi per dire vado al di là delle mie forze, vado più in là di quello che io sono, metto di più a tal punto che si rovescia fuori. Perciò questa forza che io ricevo a Pesach tramite il vino mi spinge a fare ancora più di quello che io posso immaginare di essere. Perciò le quattro espressioni che dicevamo prima di salvezza, infatti, che cosa sono? Si dividono in due gruppi, un gruppo di tre e una unica. Le prime tre sono, abbiamo detto, uscire, vi farò uscire, vi salverò e vi ridimerò. Queste tre che cosa hanno a che fare? Hanno a che fare con il passato, con l'Egitto. Vi farò uscire dall'Egitto, vi salverò dall'Egitto, vi ridimerò dall'Egitto. Perciò tutti questi hanno a che fare ancora con il passato. Ed è questa, è una fase dell'uscita della libertà. La seconda fase cosa parla? L'ultimo progetto è Vi prenderò a me come mio popolo. Non parla più del passato, dell'Egitto, della schiavitù, della cattiveria. Parla del futuro. Vi prenderò come mio popolo. Perciò qua vediamo che la libertà, che noi vediamo nelle quattro parole, nei quattro bicchieri di vino, in che cosa? Si traduce in staccarsi dal passato e cataputarsi in un futuro migliore. Di non sempre stare attaccati al passato, alla sofferenza di quello che ero. Staccati, dimenticati della sofferenza, piuttosto guarda in avanti dove potrai essere. Cosa potrai essere? Dice Dio, vi prenderò a essere il mio popolo. Vuol dire che noi possiamo dal passato sperare in un futuro migliore che Dio ci sta trascinando nel futuro migliore. L'ultima cosa, l'ultima chicca per stasera, so che ci siamo dilungati un po' troppo, mi sembra, un altro degli oggetti, degli ingredienti che noi mettiamo sul tavolo è lo sroa, che sarebbe l'osso, l'agnello, l'osso di qualsiasi animale che noi bruciamo. Noi non mangiamo, ma lo mettiamo come la zampa d'agnello e così via. Questo ricorda che cosa? Il sacrificio pasquale che gli ebrei, prima di uscire, la sera prima di uscire dall'Egitto, hanno sacrificato un agnello e l'hanno sacrificato per Dio e poi l'indomani sono usciti. La cosa strana è che noi sappiamo che c'è una regola, che i sacrifici si possono fare soltanto a Gerusalemme e soltanto nel santuario. Non esiste fare un sacrificio fuori dal santuario, ad eccezione del primissimo sacrificio della storia che gli ebrei hanno fatto, il sacrificio pasquale, quando ancora erano in Egitto e quando non c'era il santuario. La domanda è come è possibile che gli ebrei abbiano fatto un sacrificio fuori da Israele. È vietato. Oggi non si fa sacrifici perché? Uno dei motivi è perché non abbiamo il santuario. Abbiamo Gerusalemme, ma non abbiamo il santuario. Perciò non si possono fare sacrifici. Eppure in Egitto l'hanno fatto. Da qua imperiamo il messaggio che Hashem dà al popolo ebraico allora e adesso. Il messaggio è da ora in poi figli miei avrete tanti momenti spirituali. Stiamo parlando che Dio parla all'ebrei prima di uscire dall'Egitto verso andare, verso la terra santa, la terra promessa, il Sinai, i dieci comandamenti. Dice avrete tanti momenti di spiritualità. Avete preghiera, studio, sacrifici, tante cose che vi connettono a me. Però dice Hashem sappiate che questi momenti non sono lo scopo finale. Bensì, cioè non è la preghiera che è lo scopo finale o lo studio che è lo scopo finale. Lo scopo finale che cos'è? Di prendere questi momenti di spiritualità che siano preghiera o studio e di trascinarli in che cosa? portare questi momenti nella routine giornaliera, nella nostra quotidianità. Di portare questi momenti di elevazione in casa nostra e non soltanto a Tempio. È facile quando vai al Tempio pregare, studiare, essere santo. Qua Dio dice il primo sacrificio ve lo faccio fare fuori da Israele, fuori dal santuario, proprio in un posto come l'Egitto per insegnarti che anche in casa tua devi essere capaci di sacrificare, ma non il sacrificio vero, ma portare la santità del Tempio, del santuario, dell'altare, dei sacrifici dentro casa tua, dentro la tua vita, nella tua quotidianità, nella tua routine di ogni giorno e non soltanto nel santuario. Tant'è che oggi, non avendo il santuario, riusciamo comunque in un modo spirituale a fare i sacrifici giornalieri. Perciò, cari amici, il messaggio è sempre quello. Anche se le mizuot, le varie cose che studiamo nella Torah, molte volte non sono attuali, nel senso che non possiamo fare determinate cose, ma vediamo che invece l'insegnamento è vivo più che mai. Seguendo le lezioni di stasera vediamo quanti insegnamenti di vita possiamo trarre da una cena di Pesach che noi facciamo in famiglia. Possa Hashem veramente aiutare tutti noi di uscire dalle nostre limitazioni, di poter veramente rafforzare la nostra fede, di connetterci con Dio, di far avvicinare tutte le persone che sono lontane dalla conoscenza divina di Dio e di portarli indietro spiegandoli con dolcezza e bontà quanto Hashem è misericordioso, quanto Hashem desidera veramente riconnettersi con i quinti figli, con questi figli che sono veramente lontani. Grazie al fatto che noi vogliamo uscire e auspicchiamo la nostra libertà sicuramente riusciremo ad arrivare alla salvezza finale che sarà tramite la venuta di Mashiach, il Messia che porterà pace nel mondo intero a tutti. Purtroppo la sigla non c'è, non capisco cosa è successo, però fa niente. Ogni cosa che succede bisogna essere capaci di accettarla con un sorriso, perciò la nostra lezione termina qui, settimana prossima di nuovo faremo lezione il mercoledì perché giovedì sera è di nuovo festivo e non si può accendere il cellulare, eccetera, perciò Chag Sameach a tutti, qualcuno che non ha ancora dove andare a fare il Seder potrà chiamarmi, lo porterò nel nostro centro o se è in giro per l'Italia potrò affidarlo a qualche collega nell'Italia o anche nel mondo, non c'è problema dei limiti dove sono i rabbini nel mondo, però facciamo in modo di fare tutte e due le sere, di mangiare la mazzà e di festeggiare tutti insieme, Bezat Hashem insieme con Mashiach Zitkeinu Chag Sameach a tutti, ricordatevi di condividere la lezione e di festeggiare la libertà finale. Chag Sameach a tutti. Chag Sameach a tutti.